Buonasera a tutti, è il 22 di ottobre, buon pomeriggio, sono le 15.30 in diretta da Milano per questa diretta stavolta soltanto monotematica per poter parlare e rispondere eventualmente anche alle vostre domande sui comitati civici o come li abbiamo chiamati comitati di azione civile che sono stati lanciati alla Leopoldo da Matteo Renzi, ma prima di parlarne io vi ricordo come al solito di pigiare su questa freccetta dove leggete condividi in modo tale da poter allargare quanto più possibile il gruppo di persone che seguono questa diretta ma potete farlo anche più tardi nel caso in cui doveste assistere alla diretta con un pochino di ritardo, sapete che lascerò il video della diretta sia sul sito ivanscalfarotto.it che sulla pagina Facebook ma anche sul canale YouTube. Questa volta cercherò di fare anche una cosa che non faccio di solito, cioè di seguire i vostri commenti, infatti ogni tanto mi vedrete che seguo con lo sguardo da qualche altra parte perché vorrei poter rispondere alle vostre domande direttamente. Ciao Gabriella che ci scrive dalla Cina, ciao Barbara Vianello, insomma guarderò anche un po' fuori camera perché vorrei poter rispondere alle vostre domande sui comitati di azione civile. Ma prima che le domande arrivino cercherò di spiegare un po' come nasce questa idea e qual è il senso che c'è dietro appunto questi comitati civici. Ne ho parlato alla Leopolda sabato pomeriggio e ovviamente volevo dirlo anche a voi che mi seguite qui su Facebook. Dunque l'idea fondamentalmente sta in questo, che la novità politica degli ultimi mesi da quando c'è questo governo giallo-verde è che il governo ha messo nel mirino le regole del gioco e cioè in precedenza noi abbiamo sempre considerato la politica come un dividersi sulle cose da fare ma dentro delle idee condivise, dentro delle regole che tutti accettavano. Invece da quando c'è questo governo quello che è andato in crisi, come dobbiamo fare per comporre i comitati civici, ve lo dico subito. Comunque quello che è andato in crisi sono le regole in realtà. Nel senso che quelle cose che davamo per scontate come la democrazia rappresentativa, come la libera stampa, come il dato scientifico rispetto alla superstizione, come l'idea dell'Europa, come l'idea della crescita economica rispetto all'assistenzialismo, ebbene queste idee che prima erano idee di tutti improvvisamente sono diventate idee sulle quali bisogna scendere in campo personalmente per poterle difendere. Noi siamo sempre stati un paese estremamente esclusivo, oggi sono state sdoganate parole di razzismo che non eravamo abituati ad ascoltare e che sono diventate quasi d'abitudine e io credo che ci sia tantissima gente che non ha voglia di vivere in un paese così, in un paese dove un capo partito come Grillo attacca il Presidente della Repubblica in modo sguaiato come è successo qualche ora fa, o in un paese dove i bambini vengono separati nelle scuole seconda dell'etnia o in un paese dove il Ministro dello Sviluppo Economico dice che i giornali dovrebbero chiudere. Un paese inclusivo, un paese con una stampa libera, un paese nel quale le istituzioni sono rispettate non è soltanto, diciamo così, patrimonio di un partito. Io penso che sia patrimonio di tutti e quindi i comitati civici a cosa servono? Servono proprio a dare uno strumento alle persone, al di là della loro appartenenza o meno a un partito, di potersi coagulare nella difesa delle regole del gioco, delle regole del gioco democratico. Servono a dire che l'Italia non diventerà l'Ungheria e che quindi la politica si divide sui contenuti ma i cittadini si uniscono sulle regole e su quelli che sono i cardini della convivenza democratica. Quindi qualcuno mi ha chiesto ma come si collocano questi comitati civici rispetto al PD? Io dico che si collocano l'uno fianco all'altro, si può essere come io sono orgogliosamente un dirigente del PD e sostenere le politiche del PD, però insieme ad altre persone, magari di altri partiti o magari di altri orientamenti, dire sono un militante del PD ma sono soprattutto e anche un cittadino italiano che è preoccupato per la difesa dello stato democratico. E quindi i comitati civici vogliono esistere perché esiste un patrimonio che non è soltanto di una parte o men che meno di una parte di una parte, quindi di un'area, di un partito, sono questioni che riguardano tutti e che sono sicuro hanno a che fare e colpiscono anche tante persone che magari leggendo il giornale hanno un sussulto quando leggono cose come quella di Lodi o cose come quelle di Riace dove per esempio un modello di integrazione di successo internazionale considerato un esempio dappertutto viene smontato dal ministro dell'interno. Oppure non so quando Salvini dice che i negozi etnici dovranno chiudere alle 21 e viene da chiedere cosa sono i negozi etnici. In Italia non esistono negozi etnici, in Italia esistono i negozi. Era dal 38, dalle leggi razziali che non si andava a guardare alla nazionalità, all'etnia o alla religione del titolare di un negozio per applicargli una disciplina speciale. E quindi davanti a questi attacchi io penso che sia importante avere uno strumento snello che non si perde diciamo così in mille discussioni, in mille questioni come giustamente fanno i partiti politici che devono avere un'opinione su tutto, ma concentrarsi soltanto su sette cose, sette valori che abbiamo individuato e su questi sette valori difenderci come cives, come cittadini, non tanto e non necessariamente come militanti o dirigenti di un partito. Allora, quali sono questi sette valori? Io me li sono scritti perché come i sette nani ne manca sempre uno. Sono l'Europa contrapposto ai nazionalismi, sono la crescita contrapposta all'assistenzialismo, sono la scienza contrapposta alla superstizione, la giustizia contrapposta al giustizialismo, il vero, quindi la libertà dell'informazione, della vera informazione rispetto al virale, cioè alle fake news e a tutto quello a cui assistiamo in questo momento, la democrazia verso il plebiscitarismo, quindi la democrazia come la conosciamo, dove anche la maggioranza delle persone, la maggioranza parlamentare agisce dentro dei limiti specifici con la tutela delle minoranze per assicurarci che chi vince le elezioni poi lasci le regole nel modo necessario a creare anche l'alternanza, perché come dire, ci sono paesi anche purtroppo in Europa dove chi ha vinto le elezioni ha modificato le regole, in modo da non poter mai più lasciare il governo, e poi una società aperta verso l'esclusione che sono i casi di cui vi raccontavo, di Riace, di Lodi e di tutte quelle parole che sono state sdoganate in un certo senso nel nostro paese e che non eravamo abituati a sentire, ci sono certe cose che un tempo, un tempo, solo qualche mese fa ci si vergognava magari anche a pensare, io sono stato molto colpito da questo signore che in televisione alla 7 ha definito i bambini che appunto mangiavano separatamente dagli altri come delle zecche e mi sono detto ma in che paese ci troviamo e quella è stata una delle spinte ad aprire questi comitati civici perché ripeto, le persone, gli italiani che hanno messo mano al portafoglio e hanno consentito a quei bambini di ritornare a mangiare insieme agli altri, secondo me non hanno fatto soltanto un gesto politico, hanno fatto un gesto civico. Io sono sicuro che moltissimi di quegli italiani che hanno raccolto quelle decine di migliaia di euro che sono arrivate in poche ore all'Odi fossero persone di ogni orientamento politico, persone che magari la pensavano diversamente su molte cose ma che hanno voluto difendere l'idea di un paese democratico, un paese dove vige il principio di uguaglianza, dove le persone non vengono discriminate e figuriamoci i bambini non vengono discriminati sulla base della loro etnia. Vediamo che cosa succede, io a questo punto, visto che mi dice ogni tanto qualcuno che non interagisco, questo è il momento di interagire. Se avete domande precise, anche domande cattive, qualcuno mi ha chiesto prima come si fa ad aprire un comitato civico. Ecco, questo è molto importante e lo dico subito. Per aprire un comitato civico, anzi un comitato di azione civile, bisogna andare sul sito www.comitati-ritorno-al-futuro.it. Lo ripeto, www.comitati-ritorno-al-futuro.it. Tra le varie pagine ne trovate una che si chiama come aprire un comitato e quindi sostanzialmente c'è una pagina precedente dove c'è tutta la spiegazione, però ve la ridò per semplicità. Quello che accade è questo. Per aprire un comitato ci vogliono almeno cinque persone di cui una persona deve essere il promotore o il coordinatore dell'iniziativa. Quindi la persona che si decide che sarà il promotore o coordinatore dell'iniziativa va sulla pagina come aprire il comitato, registra le proprie generalità e anche indica dove il comitato viene collocato, sceglie anche una delle sette sfide, perché l'idea è che i comitati si concentrino non esclusivamente ma principalmente su uno dei sette argomenti. Questo perché? Perché vorremmo che i comitati fossero in rete non soltanto geograficamente, quindi non so, i comitati della provincia di Pavia o quelli della provincia di Campobasso, ma anche che fossero in rete per argomento. Quindi quei comitati che avranno deciso di concentrarsi di più sull'Europa, essere in rete con tutti gli altri comitati che si occupano di Europa o quelli che hanno scelto la società inclusiva, possono essere in contatto con gli altri, questo anche per scambiarsi delle idee, per scambiarsi materiali o per avere, diciamo, considerare nuove iniziative, magari anche creative, perché a me piacerebbe molto che questi comitati fossero molto pratici, quindi non soltanto che fossero luoghi di riunione, di conversazione o di dibattito, ma anche che facessero delle cose vere, che creassero mobilitazione. E quindi una volta completato questo modulo con i nomi del promotore, del coordinatore, l'indicazione dell'area di operatività preferita e appunto tutti i dati per poter far partire il comitato, il coordinatore premio invio, a questo punto riceverà una prima mail che servirà a autenticare quel indirizzo che è stato inserito. Quindi invio, mi arriva la mail, apro la mail, clicco e vengo autenticato come utente. Si riceverà poi una seconda mail nella quale ci saranno le modalità per entrare nell'area riservata, perché ogni comitato avrà un'area riservata su questa piattaforma. Una volta che sarete entrati nell'area riservata potrete indicare i nomi degli altri aderenti, che ho detto devono essere almeno quattro. Quindi gli aderenti riceveranno a loro volta una mail, per essere sicuri che chi li ha iscritti li avesse consultati prima, insomma che loro sono d'accordo a essere iscritti al comitato di azione civile. Una volta che appunto cinque persone, il promotore e almeno quattro aderenti, ma possono essere anche di più, però i primi quattro avranno accettato, avranno completato l'iscrizione con l'autentica, a questo punto il comitato sarà costituito. Quindi abbastanza semplice, più facile a farsi che a dirsi. Comunque sostanzialmente ciascuna persona che diventa parte di un comitato di azione civile deve autenticarsi, quindi non va soltanto sulla rete ma riceve anche una mail di autentica e quando almeno cinque hanno superato tutte le verifiche, allora il comitato è pronto. Nell'area riservata saranno naturalmente caricati materiali che possono servire per preparare il lavoro dei vari comitati. Come ho detto li metteremo in rete non soltanto su base geografica ma anche su base tematica in modo tale che possano esserci anche scambi di idee non soltanto nello stesso territorio, nella stessa provincia, nella stessa città, ma anche a distanze più ampie tra persone che però condividono gli stessi interessi. Questo è, se avete altre domande io ancora prendo qualche secondo perché in questo momento sono le 15.42 quindi ho già parlato per 12 minuti e sapete che cerco di tenermi dentro i 15. Tra l'altro sto facendo abbastanza televisione e radio, oggi sono stato a Radio Popolare, sono stato a Radio Popolare per poter parlare di queste cose. Vediamo che cosa mi dicono qui. È possibile da un punto di vista legale non si possa fare nulla con Grillo? Beh, se sono stati commessi dei reati, non c'entra con i comitati di azione civile, ma se sono stati commessi dei reati naturalmente la magistratura aprirà un fascicolo. Rosanna Pesa mi dice le email non arrivano. Allora la mail di Autentica arriverà subito, la mail successiva, quella che vi fa entrare nella area riservata, potrebbe arrivare un pochino dopo, nel senso che stiamo naturalmente ancora lavorando a chiudere tutte le fasi della procedura. Però non temete, una volta che siete partiti con l'Autentica poi arriverà la seconda mail. Io spero che questo possa succedere entro oggi, ma se non è oggi o domani. Diciamo, i tecnici stanno lavorando, potete immaginare una piattaforma abbastanza complessa e come immaginate l'abbiamo fatta, diciamo, naturalmente correndo. Però appunto la prima mail che arriva è quella di Autentica, dovrebbe arrivare subito, dopo qualche tempo, adesso appunto probabilmente oggi o domani vi arriveranno, coloro che apriranno un comitato più avanti invece avranno una contestualità perché il meccanismo sarà già stato creato. L'integrazione è uno degli argomenti? Sì, lo abbiamo chiamato società inclusiva per dire che non è soltanto una questione di integrazione rispetto all'immigrazione, ma in genere l'idea di una società aperta, rispettosa, nella quale le persone appunto hanno un rapporto di rispetto reciproco e di rispetto delle differenze che sono parte integrante della nostra società e sono una delle ricchezze del nostro paese. Quindi questo appunto significa, come dire, se qualcuno parla di negozi etnici, dire che questa cosa non funziona. Si possono scegliere due aree tematiche? Normalmente no, chiediamo che se ne scelga una perché altrimenti gli incroci tra i vari comitati possono diventare innumerevoli e moltiplicarsi esponenzialmente, però nessuno viola, nessuno può violare nessuna regola se magari sei promotore di un comitato civico che lavora principalmente sull'Europa e sei socio o aderente a un comitato civico che si occupa di altro. Ma fatemi anche dire che questi argomenti sono argomenti, per così dire, di predilezione, di preferenza del comitato di azione civile. Non vuol dire che il comitato sia vietato poi lavorare su altro. Altre domande, amici miei? C'è la possibilità di soffrire del parere di esperti a voi vicini? Ah sì, non soltanto a noi vicini. Una delle cose che vorremmo fare, che in una delle prossime release del sito ci sarà, sarà chiedere anche alle persone che sono aderenti a un comitato se hanno intenzione o desiderio di poter andare a parlare in altri comitati o lavorare appunto se per esempio c'è uno di voi che è un esperto, non so io, di vaccini e aderisce a un comitato scienza può magari dire io sono disponibile andare a parlare ad altri comitati della mia provincia o della mia regione indicando anche l'ambito territoriale rispetto al quale ci si rende disponibili. Questo è anche una cosa sulla quale stiamo lavorando e l'idea è anche che questi sette temi siano coperti da dei panel di esperti che andremo a costituire man mano che le cose procedono. Altre domande, amici miei? Perché ci avviamo pericolosamente? Sono già 16 minuti che sono in diretta ma magari se poi funziona questa formula rifaccio la procedura perché non è arrivata neppure la prima mail. Dunque, se hai concluso la procedura, secondo me la procedura è andata in porto, aspetterei un attimo prima di rifarla per evitare la duplicazione. Dove si potranno vedere le iniziative del comitato FA? Nell'area riservata ma poi apriremo una finestra nella quale avremo anche delle news, avremo ovviamente una pagina facebook, le cose quindi si sapranno sicuramente. Gli incontri intendo, vediamo 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 se riesco a tornare indietro. Cristina Pozzolo, se mi rifai la domanda perché ne leggo soltanto un pezzo, il progetto proseguirà come eventualmente, ma diciamo che noi siamo molto contenti se il progetto riesce ad avere, diciamo a raggiungere i suoi obiettivi, che quello, diciamo l'obiettivo è quello di allargare il più possibile il numero di persone che si impegnano, indipendentemente dall'appartenenza a un partito, sulla protezione di questi sette valori che ci sembrano in pericolo. Se appunto si riuscisse a coagulare l'energia di tutte le persone che quando leggono il giornale della mattina hanno un sussulto, come dire, rabbrividiscono, questo sarebbe un segno di grande maturità civica, dare un contenitore anche questa rabbia, questa indignazione che si sente, che poi le persone non hanno magari uno strumento per diciamo canalizzare o per realizzare. Dove si svolgerebbero gli incontri ai comitati? Dipende da ciascun comitato, ogni comitato decida appunto, ovviamente molto libero, i comitati devono essere assolutamente autonomi e devono poter avere la propria autonomia organizzativa, non ci sogniamo minimamente di andare lì sul pezzo e dire dovete vedervi a quell'ora o in quel certo posto. L'importante è dire appunto organizzatevi, consideratevi anche autonomi e liberi di poter fare delle cose e magari anche di farle sapere ad altri comitati perché io non escludo e anzi auspico che ciascuno di voi, ciascun comitato possa avere magari delle idee innovative che possono poi essere utilizzate come migliori pratiche anche da altri. Non nei circoli del PD, ma io se uno è ospitato dal circolo del PD o dal circolo Arci o nella biblioteca comunale io non vedo nessun problema, non c'è un divieto, io non vedo una dicotomia, una concorrenza tra le due cose, penso che si possa essere benissimo militanti del PD o di altri partiti e iscriversi a un comitato civico perché magari c'è un particolare interesse a lavorare su un certo tema e quindi ci si va di più, ma ecco io la guarderei molto laicamente questa cosa perché vedo che c'è un senso di sbandamento in un certo senso e che si tende a pensare che siano concorrenti, ma secondo me hanno appunto due finalità diverse. La politica si occupa di dividersi in un certo senso sui contenuti, quindi su come fare le cose, questi comitati civici vogliono soprattutto unirsi sulle regole come dicevo prima, dire si possono avere opinioni differenti su molte cose, però sull'idea che la stampa debba essere libera, che la democrazia debba essere rappresentativa e non debbano essere attaccati gli organi di garanzia, non debbano essere attaccati le autorità indipendenti, il fatto che esiste un principio di uguaglianza, che siamo cittadini europei, quindi delle cose che abbiamo sempre considerato un po' scontate e che oggi purtroppo non lo sono più, ecco questa limitatissima piattaforma che è molto importante ma limitata può unire anche persone che hanno nel merito delle questioni magari delle opinioni un pochino diverse. Spero di aver risposto a tutto, saluto Lucia De Cesaris che ci sta guardando e che è una delle colonne portanti di questo progetto, la ringrazio già per tutto il lavoro che faremo insieme che stiamo già facendo, è venuta anche a Firenze con noi e quello che faccio naturalmente adesso è fermarmi perché appunto non voglio essere troppo lungo, sono già venti minuti che sono in diretta, però appunto prometto, quest'oggi torno a Roma tra l'altro, quindi spero poi di riuscire domani nonostante l'aula a tornare online soprattutto per rispondere a ulteriori vostre domande. Lasciate però che vi ricordi che l'indirizzo del sito per aprire un comitato è www.comitateritornoalfuturo.it, lì troverete tutto, se avete domande non esitate a scrivermi, io proverò a rispondere a tutti come cerco di fare sempre, nel frattempo vi chiedo di condividere come non mai questo nostro video di oggi che sto per mettere tra l'altro sul canale YouTube, sul sito www.ivanscalfarotto.it e che trovate, manco a dirlo, su questa pagina Facebook. Quindi grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo, spero domani. Ciao!